In termini di ricerca più alto sull'abiturismo toscana, può essere questa cosa qua? Sì, certo. Nel senso, anche per un discorso di architizzazione, pensavo, che a abiturismo toscana c'è molta concorrenza. Certo, lì, sì. Bisogna concentrarsi. Certo, sì. Non c'è nessun tempo, c'è alcune parole. Sì, è fondamentale, ma addirittura il livello, ora qui io ho fatto soltanto un esempio per mostrare il funzionamento proprio dello strumento in size che ha anche altri riscolti. Però, ovviamente, il discorso della specificazione del target anche in fase di organizzazione di una campagna è fondamentale, ma non solo sulla zona geografica, ma anche, ad esempio, su delle verticalizzazioni tematiche. Quindi, se una struttura ha il benessere, piuttosto che dei servizi che chiamano il trading o per il servizio di vista, si sembrava il valore in quel modo lì. E quindi, sì, certo. Quindi la targetizzazione è fondamentale. Qui con InSite si vede, soprattutto, l'andamento delle ricerche effettivamente fatte. Cioè, è uno strumento di pura analisi di mercato sulle ricerche che Google ha registrato da parte dei potenti. È incredibile questo. Ed è gratuito. È uno strumento potentissimo. Perché Michele sta facendo dire come prima cosa, prima di fare la campagna, prima di progettare la campagna. Lui ha partito dall'esigenza e dice, va bene, andiamo tanto a vedere, per prenotare quel periodo lì, cosa la gente cercava l'anno scorso. Qual è l'andamento di queste ricerche? Perché in questa maniera io oriento la campagna stessa, decido che campagna fare, se sono troppo in ritardo, se sono in anticipo. Qui ci sono dei dati statistici, per il valore che hanno i dati statistici, ma, insomma, queste sono ricerche vere su Google. Ok?